buongiorno donnine in questo video vi voglio far vedere tutto quello che dovete fare appena dopo che avete aperto lo scatolone della vostra nuova macchina da cucire in particolare se siete principianti perché se è già la vostra macchina da cucire dei sogni allora probabilmente tutte queste cose già le sapete ma se siete alla vostra prima macchina da cucire o che è stata regalata natale oppure ereditata dalla mamma quella vecchia macchina da cucire storica ecco dopo che avete aperto lo scatolone o l'avete messo sul tavolo avete iniziato a imparare a infilarla ci sono tutte queste piccole cose che è bene che vi ricordate per le donnine che sono già venute qua a fare il corso vuole essere un ripasso di fatti questo video me l'ha suggerito una donnina che metto cri cavoli tu mi avevi detto tutte queste cosine io me le dimentico allora via che facciamo un ripasso allora bypassiamo tutto quello che è l'infilatura della macchina perché l'infilatura della macchina probabilmente o ve l'hanno spiegato nel negozio dove le acquistate per questo suggerisco di comprarle in negozio e magari non su amazon o da media or dove comunque non avete un assistenza perché la macchina da cucire non è proprio un elettrodomestico è un elettrodomestico con curi in tiragite e lei è contenta se ogni tanto c'ha il suo papà che gli dà una pulita una revisionata che vi suggerisce che usare per cui suggerimento se le differenze economiche lo permettono perché capisco che a volte ci sono delle differenze economiche però se appena appena potete consiglio vivissimo appoggiatevi a un negozio però io appunto qui volevo dire la tralasciavo tutta la parte di infilatura perché ovviamente dipende ognuno dal suo modello nel mio sito nel mio canale youtube dal video mi sembra dall 11 al 16 vedete comunque esempi di infilatura di macchine che vi possono comunque essere utili nel senso che tutte le macchine hanno la stessa logica come dico sempre qui al corso è come la lavatrice no quando hai capito che ci sono i gradi programmi e la vaschetta del detersivo alla fine magari una c'ha il pulsante l'altra c'è una rotellina ma ci sono sempre i gradi e programmi punto per cui tutte le macchine da cucinare hanno il filo sopra la bobina sotto e la logica è sempre quella quello che invece adesso vi voglio raccontare come gestire i fili la cucitura le saldature perché fare il punto largo perché farlo stretto queste cosine qua vi voglio raccontare ok allora la cucitura e voi vedete sulla vostra macchina ci sarà una rotellina con dei numeri e identifica il passo la lunghezza del punto con che logica settiamo la lunghezza del punto allora lo settiamo con questa logica non deve essere troppo stretto perché se poi dobbiamo andare a scucire e vi assicuro che scucire non dovete vederlo come una sconfitta ma è una parte integrante del cucire cioè di fatti con nerina la nostra amica sarta di venezia che con quella quale collaboro è venuta qui anche a fare dei corsi in laboratorio nerina bado faremo un video proprio dedicato a come si scuce che farà sorridere ma anche quello alla sua importanza lo faremo prossimamente non so bene quando per cui se il punto è troppo piccolo non riusciamo a scucire perché non riusciamo né col tagliasole né con la forbicina andare sotto al punto a scucirlo viceversa se il punto è molto lungo la cucitura è molle l'asca se voi tirate vedete che ci sono quasi i buchi e per cui non va bene nelle macchine nel libretto di default c'è indicata quella che per lei è la lunghezza di default del punto che solitamente è a metà scala sulla scala delle lunghezze dei punti che mediamente va da 0 a 4 da 0 a 5 per cui state sempre tra il 2 e 2 e mezzo ok allora vi mettete questo lo verificate sul libretto di istruzioni vi mettete sulla misura di default e lavorate così se l'errore che molto spesso voi fate o tante fanno e pensano a però se io voglio una cucitura molto robusta faccio il punto molto corto così mi viene una cucitura molto forte viceversa se la voglio l'asca la faccio lungo allora sull'asco la faccio lungo ok però capite quando vi serve punto lungo magari lo utilizzo più quando devo fare una ribattitura quando devo fare una finitura o quando uso un tessuto molto alto una lana molto spessa allora li lascio magari il punto un pochettino più lungo ma se devo fare una cucitura che unisce due tessuti state attenti alla lunghezza invece se la devo fare robusta non devo farlo corto perché pensate un attimo un buchino di fianco all'altro è quasi come se noi tagliassimo il tessuto per cui un buchino di fianco all'altro crea quasi un taglio e in conseguenza indeboliamo il nostro tessuto per cui se voglio fare una cucitura robusta per esempio dove vado nella borsa dove vado a fissare i manici o per esempio sul cavallo del pantalone magari sotto che è sempre il punto un pochettino che si rompe vado a fare la cucitura tripla sulle macchine solitamente c'è indicata è la cucitura dritta come le altre ma sono tre lineette parallele ok per cui quello ti fa vedere che è la cucitura tripla oppure semplicemente facciamo un avanti e indietro ok cosa è l'avanti e indietro avanti e indietro è solitamente le macchine hanno o un pulsantino o una levetta laterale che fa sì che i dentini sotto che sono quelli che trascinano il tessuto vadano in retro solitamente nel 90 per cento dei casi funziona che fin tanto che tengo schiacciato vado in retro appena mollo torno andare in avanti poi adesso queste cose ve le faccio vedere direttamente anche sulla macchina ok per cui cucitura tripla fatta settando manualmente il punto e può essere utile oppure semplicemente facendo avanti e indietro attenzione quando andiamo in retro adesso ve lo faccio vedere ci spostiamo un attimo sulla macchina aspettate che non è che guardo in giro vagolando ma guardo in giro per settare il computer e spostarmi da questa parte eccomi qua sulla macchina da cucire stavo dicendo l'avanti e indietro quando noi lo facciamo non c'è scritto da nessuna parte che va dritto ok potrebbe anche andare storto adesso da pollo non ho cambiato il filo e non ho messo un filo scuro per facilitarvi la visione ma lo faremo in diretta allora ecco intanto vi racconto anche un po' di movimento sulla telecamera che non fa mai male vi racconto anche quando infilate la macchina di allora vi suggerisco innanzitutto di comprare sempre dei fili di qualità ok anche la qualità del filo ha la sua importanza nel momento in cui andiamo a cucire perché le spolettine comprate al discount magari non è che sono il massimo ecco allora intanto che devo infilare la macchina vi suggerisco anche questa cosa guardate un attimo aspettate che il sistema bene eccoci qua allora per infilare più comodamente l'ago allora tante macchine hanno l'infilago ok se non abbiamo l'infilago che cosa posso fare posso fare aspettate che qui ok oggi è un po' fa un po' le bizze questa posizione ma l'inquadratura della telecamera della macchina di cucina è sempre un po' laboriosa allora se non abbiamo l'infilago che cosa vi suggerisco quando dovete infilare il filo tirate giù il piedino mettete un dito dietro l'ago in modo tale che vedete un pochettino meglio il buco dopodiché mi infilo col dito dietro blocco subito il filo ok e qua con lunghetta tiro continuo a tenere dietro il filo in modo tale che il filo non faccia dei giri strani intorno al lago ok adesso torno a tirare sul piedino e sono pronta per iniziare e ho voluto cambiare il filo in diretta perché così vi raccontavo anche questa cosa allora partiamo così schiacciamo partiamo ecco una cosa molto importante ricordatevi sempre quando partite tirate i fili ok non teneteli in mano così tirateli proprio eviterà che all'inizio si formi un nodinello sotto probabilmente vi sarà già successo ok allora tiriamo i nostri fili e partiamo veniamo avanti di 3 4 punti ok dopodiché schiacciamo nel mio caso è un pulsantino qua sopra l'ago schiaccio il pulsantino e la macchina va in retro tengo schiacciato lei va in retro faccio ancora i miei 3 4 punti ok poi torno andare in avanti arrivo alla fine della mia cucitura e devo saldare ancora sono arrivata alla fine schiaccio vado indietro 1 2 3 torno andare in avanti 1 2 3 faccio venire su l'ago tiro sul piedino e attenzione cosa faccio in questo momento tengo con le dita i fili qua vicino e tiro se eventualmente sento che tirare questo filo è un po' duretto allora che cosa faccio muovo lievemente non la telecamera che poi non ci avete neanche ma muovo lievemente vedete l'ago che sale scende di poco la manopola che avete lateralmente nella macchina da cucire e lei aiuterà a sbrogliare i fili ok e farli venire fuori in modo più agevole ok in questo caso io ho fatto la saldatura della cucitura si dice e di conseguenza posso andare a tagliare vicino vicino e sarò sicura che queste non si disfano né all'inizio e né alla fine però vedete qui sono sulla stessa linea perché quando sono andata indietro io sono stata attenta se io invece quando vado in retro vengo avanti quando vado in retro vado un po' così a casaccio ci metto un attimo a fare la z di zorro ok allora in questo caso la saldatura non serve a un tubo ok perché la saldatura funziona perché tre cuciture vanno una sopra l'altra e si bloccano una con l'altra chiaro? qui sono parallele per cui non serve a un tubo l'altro quesito che mi fate sempre è quando faccio la saldatura allora quando faccio la saldatura non c'è una risposta precisa nel senso che aspettate che mi faccio rivedere eccomi qua allora quando faccio la saldatura non esiste un sempre o mai allora la logica che dovete seguire è questa la saldatura si fa quando quella cucitura non verrà più incrociata da nessun'altra cucitura ok? perché se due cuciture si incrociano una così e una così si bloccano l'una con l'altra per cui per esempio faccio la mia borsa sui tre lati poi attacco tutta la fodera in alto i due lati in alto verranno cuciti con una cucitura perpendicolare quelle cuciture laterali vengono bloccate da quella invece se io vado ad attaccare la tasca sul fronte della mia borsa io attacco la taschina quella cucitura non avrà più non verrà incrociata da nessun'altro allora la taschina devo fare avanti e indietro ok? per cui faccio una tenda è un retilineo parto da qui e arrivo qui e poi finisce lì no? e allora qui devo fare la saldatura all'inizio e alla fine però attenzione la saldatura state attenti e fatela bene non la z di zorro ma una sopra l'altra e viceversa pensate anche che non si veda per esempio se sto facendo un trapunto o sto facendo una finitura e magari faccio tutto un contorno intorno a un disegno è brutto vedere in un punto poi che è uno sopra l'altro ok? allora magari evito di in quel caso non vado a fare l'avanti e indietro con la macchina ma lascio i fili lunghi e li bloccherò poi a mano perché la saldatura si vede antiestetica ok? poi esistono macchine invece perché le macchine magari elettroniche un po' più carine e questo io solitamente nei corsi non lo dico perché è legato a già un certo livello di macchine alcune macchine hanno quella è il punto che salda la cucitura allora se voi guardate nel librettino di istruzioni solitamente è identificato o con un tondino due tondi concentrici oppure l'ago che fa che si vede che fa su e giù e che comunque la macchina che cosa fa? quando parte lei in autonomia se gli impostate questa funzione fa tre o quattro punti proprio appena appena vicini uno sopra l'altro a quel punto la cucitura è saldata e voi potete andare allora questa è il modo diciamo più pratico di fare le saldature però anche qua vi dico non impostatelo sempre pensateci perché perché come ho detto prima lo scucire è parte integrante del corso di cucito per cui molto spesso vi trovate che magari cuciamo una roba e poi è giusto che noi dobbiamo scucirla perché nella lavorazione successiva ci fa comodo scucirla allora se noi abbiamo fatto le saldature scucire è noiosissimo per cui oppure se sbagliamo perché succede anche quello ok ma fa parte del gioco per cui le saldature le chiusure quando dobbiamo scucire o in tante occasioni forse sono quasi più le volte che rompono che le volte che sono utili ok per cui usatele con le pinze e pensate sempre come e quando farle per cui sulle saldature ve l'ho detto come gestire la lunghezza del punto ve l'ho detto ecco una cosa che non vi ho detto allora voi avete visto che sulla macchina c'è una rotellina no che identifica la lunghezza del punto bene noi mettiamo la nostra rotellina sul 2 e partiamo dal presupposto che la nostra lunghezza del punto sarà sempre 2 no poi cuciamo guardiamo il nostro lavoro e dici ah porca paletta ma qui non è il punto non è sempre lungo uguale perché continua a cambiare un po' lungo un po' corto un po' lungo un po' cosa è successo non funziona la macchina no semplicemente siete voi che andate a tirare il vostro lavoro vi faccio vedere come eccoci qua di nuovo aspettate che torniamo sulla macchina eccoci copriamo qui allora mi metto sulla macchina da cucire tiro giù il mio piedino tengo i fili parto ok parto ok e qui le mie mani che stanno sempre davanti e mai dietro ok qui perché io voglio andare precisa in quel punto magari tengo tiro un attimino perché non sono sicura e allora anziché ridurre la velocità vado a tenere il tessuto no ok vedete che avanzo molto meno così avanzo di più viceversa magari qualcuno è abituato a tenere le mani dietro e allora che cosa fa tiene le sue mani dietro tiene una mano dietro e lavora così allora adesso vi faccio vedere che cosa è accaduto allora cosa è accaduto potete riuscite a vedere che le cuciture cambiano lunghezza sono più o meno lunghe se non lo vedete bene dalla telecamera fidatevi no purtroppo l'inquadratura di un dettaglio così particolare è molto difficile ecco vediamo se dietro lo percepite meglio qui dove c'è la linea vedete che ci sono i puntini neri che sono più o meno vicini ok che cosa è successo perché è accaduta questa cosa ma cavoli la macchina era settata che il punto doveva essere lungo 2 certo ma se le mie dita tengono davanti questi dentini che sono i responsabili dell'avanzamento del tessuto non vincono vincete voi e per cui non riescono a trascinare il tessuto e di conseguenza i vostri punti saranno molto piccoli viceversa se invece tiro dietro come spesso vedo fare i punti saranno lunghi perché comunque tu tiri dietro e questi qui andrebbero avanti con la loro cadenza ma vinci ancora tu per cui in questo strano il tiro alla fune tra voi e il tessuto sicuramente vincete sempre voi ok e questo è il motivo per cui spesso i vostri lavori hanno una lunghezza del punto in regolare le vostre mani sulla macchina da cucire devono solo dare la direzione non devono mai né spingere né tirare perché è già la macchina che fa avanzare della giusta quantità la stoffa ok a seconda di come avete settato voi la lunghezza del punto allora per cui avete aperto la scatola ne avete infilato la macchina avete settato il punto avete capito quanto lo dovete fare lungo avete capito come saldare la cucitura cosa vi dico ancora ecco con che logica si fa la cucitura allora io qui le mie donne lo sanno spesso dico sempre dovete cucire a piedino che cosa vuol dire cucire a piedino vuol dire che noi andiamo a cucire con un certo margine allora se noi andiamo a fare una cucitura molto vicino al margine della nostra stoffa ok lo faccio vedere adesso qua la nostra cucitura non regge allora se io faccio una cucitura così ok in questo modo ho fatto una bellissima cucitura qui vicino ecco questa cucitura non va assolutamente bene perché il tessuto si sfila vedete tutti i tessuti si sfilano nei 7 si sfilano in 12 secondi i jeans si sfilano in 3 giorni ma concettualmente entrambi si sfilano ok allora quando io poi vado ad aprire il mio tessuto questa cucitura non tiene diciamo che la cucitura si apre ma in realtà non è la cucitura che si apre è il tessuto che sfilando si smolla allora noi cosa dobbiamo fare dobbiamo lavorare con un margine ben preciso e questo margine che cos'è il piedino per convenzione tra qualsiasi modello di macchina e c'è questa convenzione che dice che tra l'ago in posizione centrale ok perché alcune macchine possono spostare l'ago a destra o a sinistra ma l'ago in posizione centrale e il piedino standard ok la distanza tra qui e il lato del piedino sono 0,75 mm ok per cui se io vado a cucire così e qui lateralmente vedo sbirciare appena 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 fuori il mio tessuto io sarò nella condizione che tra qui e la fine del mio tessuto ho 0,75 mm ok e questo mi permetterà di dire che la cucitura mangia un centimetro e mezzo perché 0,75 da una parte e 0,75 dall'altra tutta questa precisione matematica quando mi serve? mi serve quando poi vado a tagliare i miei modelli e mi dicono devi lasciare il margine di cucitura ma quant'è il margine di cucitura? il margine di cucitura è solitamente 0,75 ok per cui se noi dobbiamo fare un cuscino che sarà finito 40x40 taglieremo la stoffa non un po' di più ma la taglieremo 41,5x41,5 ok poi in realtà io rotondo sempre a 42 rotondo all'unità superiore perché a meno che non facciamo la fodera del divano che deve andare su precisissima se io vado a fare una cucitura un pelino più abbondante e la borsa mi viene mezzo centimetro più piccola direi che siamo sereni uguali se viceversa noi facciamo la cucitura troppo scarsa troppo vicino al bordo e il tessuto si sfila la borsa si apre direi che sicuramente più grave ok per cui margine di cucitura piedino 0,75 da tenere sempre presente perché è importante e magari tendiamo ad aumentare il piedino se abbiamo tessuti che sfilano le sete magari stiamo facendo una sciarpina con un tessuto disgraziato un po' garzato che sfilaccia tanto se vediamo che il tessuto sfilaccia tanto aumentiamo il piedino se poi andiamo a fare una lavorazione per cui andiamo a foderare il nostro oggetto finito nel senso per cui poi lo giriamo lo foderiamo e quella cucitura non viene più toccata da nessuno nessun problema possiamo lasciarla così se invece la nostra cucitura rimane a vista allora abbiamo bisogno di rifinirla con uno zigzag perché se la nostra cucitura rimane a vista anche se ho lo 075 torniamo sulla sulla macchina anche se ho lo 075 io qui con pazienza mi metto qui sfilo il mio tessuto e arrivo ancora al risultato di prima che la cucitura si apre però se invece è foderato il problema non sussiste se non è foderato io qui che cosa devo andare a fare devo andare a fare lo zigzag cioè quella cucitura di finitura che avrete sentito magari nominare ok è una cucitura di finitura che si fa in finitura dopo aver fatto le cuciture e che cosa fa lo zigzag ha la funzione di bloccare lo sfilacciamento del tessuto ok aspettate che la mia telecamera ha avuto un turbamento evita che il tessuto sfilacci magari sfilaccia ancora qualche peluchino ma a un certo punto si blocca per cui la cucitura fatta 075 mi dà lo spazio tecnico per fare lo zigzag e dopo che ho fatto lo zigzag questo tessuto non sfila più per cui il cuscino quello che lo posso buttare in lavatrice lavare toccare che ma nulla accadrà se non faccio lo zigzag dopo tre lavaggi la cucitura si è lasciata andare ok per cui adesso vi ho dato queste poche informazioni in questi pochi minuti però informazioni che già vi aiutano a ho aperto la scatola ho guardato i tutorial di come si infila la mia macchina se volete sbirciate dall'11 al 16 anche le mie magari sono gli stessi modelli o simili Elena Bernina e Giannome ho io in laboratorio ho capito la lunghezza del punto so fare le saldature capisco con che margine di cucitura la devo cucire e come fare le finiture ok ecco un'ultima cosa vi dico quindi che mi vengono in mente così allora quando dovete imparare a cucire cosa dovete fare prendete un pezzettino di stoffa e iniziate a cucire a caso createvi un percorso aspettate così ecco createvi un percorso perché un conto è cucire a capocchia dove avete voglia e per cui sicuramente è giusto un conto è seguire un percorso per cui seguiamo il percorso e così ci abituiamo a dire ok lì devo andare che cosa devo fare per arrivare lì ok quando dobbiamo fare le curve le sì i cambi di direzione a 90 gradi ecco vi faccio vedere quest'ultima cosa quando dobbiamo fare i cambi di direzione per cui abbiamo i 90 gradi allora parto da qui vado abbiamo ancora lo zig zag mettiamo il punto normale ok arriviamo qui lì in alto devo girare però io col mio piede non sono ancora così brava da riuscire ad andare avanti un punto alla volta oppure ho anche la macchina che non mi permette di farlo perché non con tutte le macchine riusciamo a regolare così bene la velocità allora che cosa faccio per fare l'avvicinamento precisamente nel punto che voglio con la monopola laterale la giro sempre verso di me e arrivo precisamente dove devo girare ok per cui faccio gli ultimi punti io li chiamo gli ultimi punti di avvicinamento li faccio a mano lavorare con la monopola a mano girandola verso di noi o col pedale la cucitura è assolutamente equivalente ma allora adesso io lì vi ho fatto vedere l'avvicinamento no allora qui che cosa vi faccio notare però che quando arriviamo sullo spigolo dove devo cambiare direzione che cosa deve succedere per forza deve succedere che l'ago è giù che tiro sul mio piedino l'ago fa da perno e noi ci giriamo in giro e andiamo nella direzione prossima dove dobbiamo andare ok per cui io mi metto in questa direzione attenzione prima di partire che cosa deve accadere la macchina quando deve cucire deve sempre avere giù il piedino perché il piedino tiene il tessuto sui dentini per cui giù il piedino e parto per cui voi che cosa vi dovete abituare a fare ok arrivo precisamente in quel punto ok in quel punto sono sono lì giù l'ago sul piedino cambio direzione giù il piedino riparto ok perché se io vado a girarmi con su l'ago il punto che io andrò a fare vedete qua si muove e avrà una lunghezza non ben identificata mentre se noi giriamo con l'ago giù tutti i punti avranno la stessa lunghezza precisa l'altro errore che non dovete fare è arrivo qui sono stata brava l'ago giù mi sto girando parto senza tirare giù il piedino perché alcune macchine ve lo dicono vi bloccano quelle elettroniche più moderne non partono proprio purtroppo il 90% parte vi fa fare l'errore parte e si forma un grumino di fili qua sotto a seconda di quanto forte partite perché non ha nessuno che fa avanzare il tessuto lei prende filo la macchina vuole cucire ma nessuno avanza per cui si ingorbuglia tutto ok per cui devo girare giù l'ago su piedino devo ripartire giù piedino e riparto fatti questi esercizi direi che possiamo già iniziare a prendere un pochettino di dimestichezza vi ricordo che io sono a Milano a un laboratorio in zona affore a nord di Milano faccio i corsi da lunedì al sabato non ci sono né gruppi né calendari decidete voi il giorno e l'orario vi faccio vedere quali indirizzo mentre chiacchiero sul mio sito trovate tutte le indicazioni di orari costi e quant'altro c'è anche una pagina facebook che potete sbirciare canale youtube non ve lo dico perché già ci siete e basta se siete vicini venitemi a trovare perché sicuramente in laboratorio in presenza si imparano molti più trucchetti al di là del fatto che magari ci si diverte anche di più rispetto a stare davanti a un monitor se siete lontani va bene fatemi sapere se avete bisogno ci sentiamo dubbi perplessità cercherò di darvi una mano tranquillamente baci e baci grazie di tutto grazie di aver visto il video ciao e terminiamo